Terme si avvicina alla fine della liquidazione della SPI, il liquidatore Carlo Torriciano pronto ad onorare il debito da oltre un milione di euro con il comune di Sciacca, notizia importante che si inserisce al centro del dibattito. Tre medici saccensi garantiscono il funzionamento del reparto di ortopedia, uno è il chirurgo Franco Raso del Civico di Palermo, gli altri due sono i dottori Bono e Carlino rientrati in corsia dopo il pensionamento. Grande partecipazione anche ieri a Sciacca alle celebrazioni per la Madonna del Soccorso per le vie cittadine, oggi in coda ai nostri telegiornali per l'edizione delle 14 dopo Vesper, speciale sulla processione. La nomina di Fabio Leonte è stata la cosa giusta, così al nostro telegiornale Sino Caracappa tra i fondatori della lista Ferdinandea abbiamo provato a tutelare Ambrogio ma lui ha preferito sottrarsi, aggiunge l'ex assessore. Dubbi da parte del gruppo Saccense di Italia Nostra sul progetto per un grande parco eolico nelle località Bonfiglio, Cozzo, Pavone e nei pressi di Salinella, previsti aerogeneratori alti fino a 200 metri ciascuno. Sport, calcio, impegno casalingo per l'Unitas Sciacca che domani pomeriggio allo Stadio Gurrera ospita il temibile Castellammare, formazione che occupa al momento il quarto posto in classifica, partita difficile per i neroverdi. Bentornati in studio per le notizie di Telemonte Cronio. Il liquidatore della Terma S.p.a. Carlo Turriciano ha ricevuto dalla regione lo stanziamento necessario ad onorare il debito con il comune di Sciacca, un passaggio che agevola la conclusione della liquidazione. Il servizio di Massimo D'Antoni. Potrebbe avere le ore contate la liquidazione in corso da più di dieci anni della Terma di Sciacca S.p.a. Il liquidatore Carlo Turriciano infatti sarebbe pronto ad onorare il debito residuo più importante di tutti, ovvero sia il milione di euro dovuto al comune di Sciacca. Potrà farlo grazie ad uno stanziamento ottenuto dalla regione siciliana. Somme che riguardano tutti i tributi comunali, in massima parte IMU ma anche la Tari. Questo dempimento che sembra avverrà a giorni e che è successivo alla cessione dell'ex Motelagip rappresenta sicuramente un momento significativo nell'ottica di un completamento di una liquidazione su cui dunque si accinge a calare il sipario. Sipario che oltre alla liquidazione manderà definitivamente in archivio anche il tentativo piuttosto maldestro della regione siciliana risalente alla fine del 2005 di creare una società per azioni. L'allora governatore in carica era Salvatore Cuffaro, società per azioni che tutto riuscì a fare tranne trovare quel gestore privato invocato dal governo capo di casa. Qualche anno dopo sarebbe stato il governo guidato da Raffaele Lombardo ad attivare la liquidazione con la regione che si vide costretta a ricomprarsi tra l'altro quelle piscine molinelli oggi abbandonate che erano state conferite alla società come parte del capitale sociale. La imminente fine della liquidazione giunge nel mezzo del dibattito sulla necessità di recuperare un patrimonio termale che a nove anni dalla decisione dell'allora governo guidato da Rosario Crocetta di chiudere tutto vede l'attuale esecutivo rimasto fermo all'impegno di fare un altro tentativo con cassa deposito e prestiti per l'acquisizione dei beni. Vicenda su cui è tornato l'oblio dopo le speranze che l'assessore all'economia e Falcone aveva dato. Il 6 marzo ci sarà la manifestazione di protesta, quella promossa dal comitato civico patrimonio termale alla quale la comunità è chiamata a partecipare, in un contesto nel quale, e su questo tutti siamo d'accordo, è necessario, come ha fatto notare la stessa maggioranza del Consiglio Comunale, continuare evidentemente a perseguire anche la strada istituzionale e dei rapporti con la politica regionale. Più di 14 anni di carcere sono stati chiesti dalla Procura a carico di Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro. Il servizio. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 14 anni e 4 mesi di carcere per Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro, arrestato insieme al boss il 16 gennaio del 2023, imputato di associazione mafiosa. Il processo si celebra con il rito abbreviato. L'accusa in aula era rappresentata dal PM della DDA, Piero Padova. Luppino, imprenditore agricolo di Campobello di Mazzara, venne indagato per favoreggiamento, ma la sua posizione si è aggravata nel corso delle indagini, quando è venuto fuori che quello che appariva come un semplice fiancheggiatore chiedeva il pizzo per conto del capo mafia. Mi propose un incontro dicendomi di lasciare a casa il cellulare e poi mi chiese un aiuto economico per Messina Denaro, ha raccontato in aula un imprenditore a cui l'imputato aveva richiesto somme per il boss. Io rifiutai, ha aggiunto il testimone rispondendo alla domanda del PM, dissi che certe cose non le facevo e che se fosse accaduto qualcosa a me o ai miei familiari sarei andato dai carabinieri. Al gruppo che lo processa, Luppino aveva raccontato invece che a presentargli Messina Denaro come suo cugino, nel 2020, era stato un compaesano, Andrea Bonafede, il geometra che prestò l'identità al capo mafia, che gli avrebbe chiesto di accompagnarlo a Palermo per delle cure. Un giorno però il passeggero, conosciuto con il nome di Francesco Salsi, si sentì male durante uno dei viaggi per il capoluogo e all'invito di Luppino di andare in ospedale avrebbe detto portami a casa, sono Messina Denaro, non posso andare in ospedale. Da allora, per ragioni umanitarie, sapendo che il boss era gravemente malato, l'imputato avrebbe continuato ad accompagnare Messina Denaro alle terapie. Il padrino gli avrebbe di volta in volta lasciato nella cassetta delle poste un biglietto con l'orario dell'appuntamento successivo. Racconti che per gli inquirenti farebbero acqua da più parti, dalle analisi delle celle telefoniche dell'autista, che aveva anche stretti rapporti con l'amante del padrino, Laura Bonafede, risulta che questi avrebbe portato il capo mafia in clinica per ben 50 volte in due anni. Intanto si apprende che i mafiosi volevano candidare alle elezioni comunali di Campobello di Mazzara Alessandro Agola, marito di Martina Gentile, la giovane nipota del boss Leonardo Bonafede ai domiciliari per aver aiutato durante la latitanza Matteo Messina Denaro. Gentile, profondamente legata al capo mafia ricercato, è la figlia di Laura Bonafede, legata sentimentalmente al padrino di Castelvetrano. L'idea della candidatura poi sfumò. La circostanza emerge da una intercettazione riportata nelle motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa dell'ex parlamentare regionale del PD Paolo Ruggirello. Calogero Giambalvo, l'imprenditore col pallino della politica in cella per estorsione, non sapendo di essere ascoltato, discuteva con un altro affiliato di Agola, all'epoca fidanzato della ragazza e appena ventenne. C'è anche il carcere di Agrigento, tra quelli finiti in un'inchiesta della magistratura di Asti che ha scoperto un'organizzazione che attraverso l'uso di droni ad alta tecnologia recapitava ai detenuti mini telefoni, smartphone, sim e caricabatterie. Un giro d'affari che si stava rapidamente estendendo e che aveva fruttato 100 mila euro in poco più di un mese. L'inchiesta è iniziata nell'ottobre scorso, scaturita da un controllo di una volante di polizia. Quattro agli arresti eseguiti con l'accusa di associazione per delinquere. Nelle indagini hanno collaborato le squadre mobili delle questure di Napoli, Agrigento e Viterbo. Gli arrestati sono Simone Iacomino, già recluso ad Agrigento, Veronica Virgilio e Salvatore Sbrescia, residenti nella provincia di Napoli e Vals Ziazco nel Viterbese. Le consegne sono state scoperte nelle carceri di Asti, Saluzzo, provincia di Cuneo, Catania, Ascoli, Benevento, Teramo, Siriano, Irpino. I telefoni venivano calati da un'altezza di 30 metri legati a un filo dopo che gli organizzatori del traffico e un detenuto già in contatto con loro avevano concordato tempi e modi delle consegne. Spesso erano destinati a detenuti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso. Le indagini hanno appurato che, oltre ai cellulari, è stata consegnata anche droga. I carabinieri della stazione di Salemi hanno denunciato tre giovani fratelli, uno dei quali minorenne, per il reato di furto aggravato. L'attività dei militari dell'arma è partita dalla denuncia presentata da due cittadini del luogo dopo che dai rispettivi appartamenti in centro storico e in fase di ristrutturazione erano stati asportati i cablaggi dell'impianto elettrico, le rubinetterie e le maniglie delle porte. I carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificare gli autori del furto. Reduce dai problemi e dalle osservazioni sulla delibera del trasferimento del primario Tulumello ad Agrigento, il reparto di ortopedia dell'ospedale di Sciacca sta provando a rilanciarsi. Cosa possibile con tre medici saccensi, il chirurgo Franco Raso proveniente dal civico di Palermo e i dottori Bono e Carlino. Vediamo il servizio di Noemi Tummiolo. Il nuovo manager della sanità agrigentina Giuseppe Capodieci si è già insediato al vertice dell'ASP manifestando la volontà di operare per migliorare gli standard qualitativi dell'offerta sanitaria provinciale. Non sarà facile tenuto conto delle gravi criticità che registra in questo momento la sanità pubblica in provincia di Agrigento e in generale e dove c'è uno degli ospedali, il Giovanni Paolo II di Sciacca, in grande sofferenza. Non è un caso, per esempio, che dopo la nomina il nuovo direttore generale sia stato subito sollecitato ad occuparsi immediatamente della questione dell'oncologia dell'ospedale di Sciacca, che rimane indubbiamente una delle più gravi emergenze dopo che è andato via anche l'unico medico che era rimasto in reparto. In attesa di capire la linea che intenderà adottare Capodieci, arrivano delle notizie incoraggianti da un altro reparto che in questi ultimi mesi è stato in grande sofferenza insieme all'oncologia. Stiamo parlando dell'unità operativa di ortopedia del Giovanni Paolo II, dove il caso del trasferimento del primario Giuseppe Tulumello da Sciacca ad Agrigento, con delibera dell'ASP poi bloccata dalla regione siciliana perché ritenuta illegittima, ha ulteriormente aggravato nelle scorse settimane una situazione che era già assai critica ancora prima del discutibile provvedimento adottato dalla precedente direzione strategica. Dopo appena 24 ore di operatività del contratto di collaborazione siglato fino al 31 dicembre 2024 con gli ortopedici Salvino Bono e Salvino Carlino, richiamati dal pensionamento, entrambi di Sciacca, presso l'unità operativa è già stato effettuato un primo intervento in urgenza. Fondamentale l'apporto anche di un altro medico saccenze, l'ortopedico Franco Raso, dell'unità operativa di ortopedia del civico di Palermo, che ormai da qualche mese opera al Giovanni Paolo II di Sciacca nell'ambito della collaborazione sancita dai due ospedali. Si aprono insomma degli spiragli per questa unità operativa, al momento sono sette i ricoverati, lunedì prossimo 5 febbraio sono in programma altri interventi e dal primo febbraio ad oggi sono state svolte una ventina di prestazioni ambulatoriali. Naturalmente tutto questo non basta, è necessario l'arrivo di altri medici per dare maggiore stabilità al reparto che comunque è ripartito grazie all'apporto di tre medici di Sciacca. Tornando alle recenti nomine dei nuovi manager della sanità, oggi è durissimo il commento del segretario provinciale del Partito Democratico Simone Di Paola, parla di inguardabile spettacolo messo in scena dalle forze politiche di destra centro che governano la Sicilia, protagonisti a suo dire di una volgare lottizzazione partitica dei cosiddetti manager della sanità siciliana avvenuta sulla testa dei cittadini e in dispregio ad un sistema sanitario pubblico sempre più abbandonato al suo destino e sempre più carente in tutti i territori della Sicilia. Mentre i nostri ospedali crollano sotto l'incuria e l'indifferenza di un governo regionale incapace e inadeguato, prosegue Simone Di Paola, non è possibile assistere ad un così squallido mercato delle vacche caratterizzato dal litigio fra caporioni impresentabili interessati solo a spartirsi poltrone e cariche. Schifani e la sua maggioranza, come musumeci prima di lui, non hanno ancora capito, prosegue Simone Di Paola, che è venuto il tempo per la politica di togliere le mani dalla sanità e di restituire il sistema sanitario pubblico ad una gestione compiutamente manageriale che sostituisca il merito e la competenza alla discrezionalità e al condizionamento del potere politico. Su questo tema, conclude il PD, il nostro partito continuerà a battersi con tutte le sue forze e a tutti i livelli affinché venga restituita dignità alla parola sanità pubblica. Cambiamo argomento, grande partecipazione ieri a Sciacca alla solenne processione del simulacro di Maria Santissima del Soccorso per le vie cittadine. Il momento clou dei festeggiamenti in onore della patrona della città, nel servizio i momenti salienti della processione. Con la processione della Madonna del Soccorso per le vie cittadine si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore della patrona di Sciacca iniziati nei giorni scorsi con l'Ottavario. Dopo avere rinnovato il voto alla Madonna nel giorno del 1 febbraio, la comunità saccense ieri è tornata a stringersi attorno alla sua protettrice rinnovando la propria devozione in occasione di quello che indubbiamente è il momento della massima espressione della fede della città verso Maria Santissima del Soccorso. Emozionante come sempre il momento in cui la Madonna alle ore 17 è uscita dalla Chiesa Madre ad accoglierla e pronta a seguirla in processione per tutto il tragitto una piazza d'uomo gremita di gente. Ma notevole è stata la partecipazione della comunità a tutta la processione che si è snodata lungo un percorso durante il quale si effettuano come noto diverse fermate. Tra i momenti più suggestivi la sosta in piazza Angelo Scandaliato, la corsa dei marinai lungo la salita dello Steripinto, la sosta nei pressi di Porta Palermo e la tradizionale fumata in via Giuseppe Licata che rievoca il miracolo della liberazione della città dalla peste nel 1626. Viva! 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 Anche quest'anno imponenti le misure di sicurezza il cui rispetto è stato garantito da un grande spiegamento di forze dell'ordine, dagli uomini della protezione civile, da tante associazioni di volontariato. Una processione che si è svolta in maniera ordinata senza che ci siano stati problemi o criticità con un grande sforzo come sempre compiuto dai marinai a piedi scalzi. Poco dopo le 19 il momento del rientro della Madonna in Basilica. Applausi 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 E alla processione della Madonna del Soccorso di ieri è dedicato uno speciale RMK Notizie con le immagini del nostro operatore Michele Torrente che andrà in onda al termine della nuova puntata di Vesper e poi in coda a tutte le altre edizioni odierne del nostro telegiornale. Pausa pubblicitaria Torniamo dopo La nomina di Fabio Leonte in giunta era la cosa giusta da fare sin dal primo momento. Ne è convinto Sino Caracappa tra i fondatori della lista Ferdinandea. Anche lui respinge l'idea che la lista fosse una costola del PD ai cui dirigenti Caracappa non lesina critiche. E su Ambrogio dice Noi abbiamo fatto di tutto per tutelarlo ma lui si è sottratto al confronto. Vediamo il servizio. La scelta di Fabio Leonte come espressione della lista Ferdinandea insieme alla giunta è quella giusta. Così oggi il nostro telegiornale Sino Caracappa ex assessore della giunta Valenti tra i fondatori del soggetto politico. Dobbiamo dire che Ferdinandea pur in presenza di un grosso dibattito interno ha valutato una serie di ipotesi e che principalmente l'assessore dovesse essere una persona competente per quella che era una materia importantissima quale il bilancio personale e altro. Oggi il nostro telegiornale Caracappa punta a marcare con determinazione ogni distanza dal PD al cui gruppo dirigente non lesina critiche. Certe regole sono state fatte in corso o sono state accelerate però io dico che ci siamo trovati davanti a un tavolo di poker in cui qualcuno tentava di belfare. C'erano idee e prospettive sicuramente diverse da quelle che noi abbiamo fortemente voluto. Come ha fatto ieri Fabio Leonte anche Caracappa evidenzia che la lista Ferdinandea non è affatto una costola del PD. Qualcuno ha lanciato questo messaggio forse perché all'interno di Ferdinandea e non poteva essere altrimenti c'erano le persone che avevano la tessera del PD ma Ferdinandea era un progetto di allargare un'area di centro-sinistra all'interno della quale potevano stare l'area socialista, l'area cattolica progressista le associazioni di volontariato e altre. Quindi un'idea più allargata di quella che poteva dare il partito democratico a Sciacca che fra l'altro lo sta brillando in termini di competenze nella sua dirigenza. Questa è una riflessione destinata a far discutere quello che lei sta facendo. Sì, ma io lo dico consapevolmente affermando il fatto che non si va nel solco della tradizione. Il PD ha sempre cercato di valorizzare la sua classe politica la sua classe di amministratori. In questo momento non mi pare che si stia andando in questa direzione si sta andando verso la appartenenza e la riverenza piuttosto che la competenza. Lei si riferisce all'onorevole Catanzaro? No, guardi, io mi riferisco a tutta la dirigenza ma anche a quella siciliana che purtroppo non sta brillando con i risultati che noi abbiamo visto anche in termini di scelta di personale politico che è andato a rappresentare il partito democratico in Europa, per esempio. Sull'azione amministrativa della giunta guidata da Fabio Termine Caracappa invoca maggiore determinazione e coraggio. Lei non pensa, per esempio, che Fabio Termine sia un po' condizionato dal fatto che la sentenza ancora non è arrivata? Ci può essere un elemento di condizionamento che però non deve essere prevalente rispetto all'azione amministrativa da intraprendere. È chiaro che se si aprono altri scenari politici bisogna farne assolutamente i conti, perché no? Però è chiaro che non ci si può fermare o stoppare nell'iniziativa politica, nell'iniziativa di programmazione perché c'è la spada di Damocle di una sentenza. Quando arriverà la sentenza poi si faranno i conti successivamente. Così, infine, sino Caracappa sulla decisione di Ambrogio di lasciare la lista a Ferdinandea? Ma guardi, se questo diventa un elemento di chiarezza va benissimo. Va bene anche per Ambrogio che ha le sue legittime aspirazioni. È chiaro che andava detto almeno due mesi prima. Anche lei voterebbe per Ambrogio le provinciali? Ma se riuscisse ad avere un momento di confronto con lui e se riuscisse a convincermi, perché no? Perché purtroppo noi, come Ferdinandea, abbiamo cercato di tutelare Ambrogio fino all'ultimo giorno, ma purtroppo lui si è sottratto al confronto. Consiglio comunale ieri sera a Menfi. Tutti i nove punti all'ordine del giorno sono stati approvati. Tra questi, quelli più importanti, erano la regolamentazione degli account istituzionali del Comune sui social network approvato con i soli voti della maggioranza una mozione di indirizzo inerente all'inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza l'istituzione della consulta comunale della cultura l'aggiornamento dell'elenco dei beni immobili comunali non utilizzati per le attività dell'ente la conferma dell'adesione all'Unione dei Comuni Terresicane e il regolamento per la tutela degli animali d'affezione e per prevenire il randagismo tutti approvati all'unanimità approvato anche il rendiconto di gestione che ha registrato pure un astenuto e un voto contrario l'avvertenza agricoltura in attesa della nuova manifestazione in programma lunedì in località Gulfa sulla 624 Sciacca Palermo il presidente della regione Renato Schifani ha istituito una unità di crisi il problema della siccità è quello al momento più grave che riguarda i nostri produttori vediamo il governo regionale ha istituito l'unità di crisi sull'agricoltura con l'obiettivo di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore sta vivendo in Sicilia come nel resto d'Europa a presiederla sarà l'assessore regionale a ramo Luca San Martino la prima riunione è prevista per martedì alle 15 a Palazzo d'Orleanse alla presenza del presidente della regione Renato Schifani ne faranno parte oltre all'assessore i dirigenti generali dei dipartimenti agricoltura attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico acqua e rifiuti e protezione civile oltre al segretario generale dell'autorità di Bacino questi i principali compiti assegnati alla commissione ricevere le segnalazioni delle aree più colpite ad esempio gli allevamenti senza acqua e richiedere l'eventuale intervento della protezione civile coinvolgendo anche i comuni individuare la necessità di deroghe e provvedimenti che derivano dallo stato di crisi che bloccano altri percorsi come per esempio l'agricoltura biologica inglobare le strategie di adattamento climatico dell'agricoltura nei bandi del piano strategico della politica agricola comune analizzando gli effetti del PNRR e valutando la cancellazione di sussidi ambientalmente dannosi come quelli su gasolio agricolo meccanizzazione elettrica ed acqua e reflue la commissione è aperta al confronto con le associazioni di categoria organizzazioni sindacali e rappresentanti del settore agricolo Italia Nostra prende posizione manifestando dubbi e perplessità in ordine ad un altro grande progetto eolico per il quale è stata presentata alla regione istanza di valutazione di impatto ambientale che prevede la collocazione di impianti alti fino a 200 metri tra Bonfiglio e Cozzo Pavone nei pressi della discarica di Sciacca continuano a fare discutere i progetti riguardanti la realizzazione di megaparchi eolici tra Sciacca alla Valle del Belice sono una decina quelli tuttora presentate sottoposte a valutazione di impatto ambientale tra questi ricordiamo il progetto del giudice in territorio di Sambuca di Sicilia il portello in territorio di Montevago su cui non solo i sindaci dei predetti comuni ma anche quelli dei comuni circostanti hanno deciso di combattere attraverso osservazioni e obiezioni lamentando il rischio di una devastazione del paesaggio oggi la sezione Saccenze di Italia Nostra preseduta dall'architetto Calogero Segreto interviene per manifestare le proprie perplessità in ordine al progetto per un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato grecanico progetto questo che prevede la realizzazione di sei aerogeneratori di potenza complessiva pari a 30 megawatt in contrada a Bonfiglio, Cozzo Pavone nei pressi di Saraceno Salinella in territorio di Sciacca e delle opere connesse ad infrastrutture necessarie nei comuni di Caltabellotta, Calamona, Cilibere e Villa Franca Sicula del progetto in questione è stata presentata all'assessorato regionale territorio ambiente e dipartimento ambiente della regione siciliana un'istanza di valutazione di impatto ambientale dal progetto presentato si evince che le aerogeneratori avrebbero un'altezza totale di circa 200 metri ciascuno un diametro rotore di 175 metri e con base di fondazione a forma tronco conica del diametro di 27 metri ed un'altezza compresa da 1 a 3 metri dimensioni che senza alcun dubbio secondo Caloggio Lo Segreto Presidente di Italia Nostra di Sciacca provocherebbero un impatto visivo devastante a diversi chilometri di distanza per quanto riguarda l'altezza dei pali e uno sconvolgimento notevole della componente suolo e sottosuolo per quanto riguarda le fondazioni inoltre, aggiunge il Presidente di Italia Nostra l'area è già interessata dalla presenza della discarica comunale e creerebbe una certa conflittualità tra due impianti anche dal punto di vista atmosferico la sezione Italia Nostra ha in corso una valutazione più accurata del progetto per quanto riguarda la componente natura-biodiversità la presenza di siti di interesse archeologico e culturale la componente rumore i flussi migratori e così via e alla fine valuterà l'opportunità di presentare osservazioni contro il progetto grecanico ovvero opposizione alla realizzazione dell'impianto chiediamo, conclude Caloggio Lo Segreto che l'amministrazione comunale dedichi la dovuta attenzione alla vicenda considerato il ruolo determinante che essa può svolgere nel procedimento decisionale e di coinvolgere gli altri comuni interessati dall'intervento specie quello di Caltabellotta che potrebbe avere un danno visivo paesaggistico maggiore si potranno acquistare solo fino al 9 febbraio gli abbonamenti per l'ingresso del Carnevale di Sciacca che inizia tra una settimana lo precisa la Futuris società organizzatrice evidenziando che da sabato in poi sarà possibile acquistare solo l'ingresso giornaliero non potendo più sfruttare la possibilità di una riduzione il ticket d'ingresso costa 6 euro al giorno per i residenti 8 euro al giorno per i visitatori abbonamenti per i 4 giorni 15 euro per i saccensi 20 euro per i non residenti la città di Sciacca alla BIT di Milano la Borsa Internazionale del Turismo in programma nel capoluogo Lombardo da domani a martedì 6 febbraio all'interno del padiglione Sicilia il comune di Sciacca e le altre 5 città siciliane della ceramica presenteranno domani il progetto denominato Passaporto della Ceramica un progetto di promozione turistica che unisce le realtà siciliane note per la produzione di ceramiche artistiche vediamo il servizio il comune di Sciacca sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano da domani a martedì 6 febbraio la delegazione saccense sarà composta dal sindaco Fabio Termine dall'assessore al turismo Francesco Di Mino e dai consiglieri comunali Raimondo Brucculeri Gabriele Modica e Antonino Venezia il comune di Sciacca per tre giorni sarà ospitato all'interno del padiglione Sicilia insieme alle città dell'associazione della strada regionale delle ceramiche siciliane durante la giornata di domani le sei città presenteranno il progetto comune del passaporto della ceramica questo momento dichiara l'assessore al turismo Francesco Di Mino sarà un'opportunità unica per promuovere la nostra tradizione ceramica e condividere le nostre eccellenze con il mondo la partecipazione alla BIT è solo l'inizio di un percorso che vuole rimettere Sciacca al centro di uno sviluppo turistico insieme ad altri comuni che condividono le nostre caratteristiche o sono contigui territorialmente come nel caso del distretto turistico appena riattivato dopo l'installazione dei vasi in via Roma prosegue l'assessore al turismo del comune di Sciacca ora portiamo la nostra ceramica alla BIT di Milano per farla conoscere al mondo intero e promuoverla come elemento fortemente identitario la presenza di Sciacca alla Borsa Internazionale del Turismo è il risultato di una lunga interlocuzione iniziata mesi fa dalle sei città siciliane della ceramica con l'assessore regionale al turismo Elvira Amato il comune di Sciacca presenterà inoltre un video promozionale dedicato alla ceramica realizzato dalla giovane artista saccenze Frida Federica Grisafi e finanziato dall'assessorato regionale al turismo con questo spot conclude l'assessore Francesco Di Mino vogliamo comunicare le bellezze della nostra città in modo innovativo il video sarà disponibile sui canali del comune e potrà essere utilizzato da tutti gli operatori del settore che desiderano promuovere la città di Sciacca e nella nuova puntata di Vesper in onda da oggi parliamo del recente rinnovo delle cariche direttive del distretto turistico Selinunte Belice Sciacca ospite in studio Giusy Cavarretta assessora di Castelvetrano e presidente del distretto Francesco Di Mino assessore di Sciacca e vicepresidente l'ex presidente del distretto Sino Caracappa e l'ex assessore Salvatore Bandracchia vi proponiamo una breve anticipazione è abbastanza recente il rinnovo delle cariche all'interno del distretto turistico Selinunte Belice e Sciacca un fatto che rappresenta per noi uno spunto per tornare a parlare di politiche di sviluppo turistico in un territorio che ha bisogno evidentemente di organismi che condividano le varie progettualità che sono possibili da mettere in pratica un distretto turistico naturalmente nasce con questo obiettivo tutta quanta la Sicilia ha talmente opportunità e talmente offerta che potremmo fare turismo per 12 mesi all'anno io da poco appunto vengo da un incontro un tavolo tecnico alla Farnesina con il ministro Tajani che ci parla di turismo delle radici ed onestamente devo dire che prima di inquadrarlo sotto un titolo turismo delle radici devo dire che questo era un forte attrattore per chi negli anni 30 si è allontanato dalla propria terra per andare a cercare fortuna altrove oggi questo potrebbe essere uno spunto di turismo tutto nasce da una riflessione che abbiamo fatto questo territorio è bellissimo ce lo raccontiamo tante volte ma necessita di una regia una regia che deve essere necessariamente un ente sovracomunale che può essere distretto perché appunto di 7-18 comuni diciamo del comprensorio che si riuniscono in un ente significa avanzare delle proposte comuni significa ragionare in maniera comune ed è quello che è mancato in questi anni perché quando naturalmente si propongono dei progetti quando si parla anche con gli assessorati quando si propongono qualunque idea qualunque progettazione se non c'è la spinta di tanti comuni necessariamente questi progetti possono andare a buon fine il problema sicuramente sta lì dove sta il manico perché la burocrazia regionale se è produttiva ed efficiente allora come dire ma leva gli amministratori da una serie di responsabilità non dal punto di vista amministrativo ma dal punto di vista operativo ed esecutivo io ho l'idea del distretto turistico noi l'abbiamo percorsa negli anni 2000 il 2003 presentammo il distretto turistico Terme Serinontine allora era il dirigente Porretto ma la cosa singolare è che purtroppo questo strumento che avevamo pensato come amministrazione di Sciac coinvolgendo un po' tutti i comuni non trovava la cornice normativa non riusciva a poter recepire questo progetto perché mancava appunto la norma perché è importante la presenza dei privati all'interno di un distretto turistico i privati devono avere un ruolo secondo me anche maggiore in termini di proposta ma soprattutto perché il privato esiste e va al di là del mandato che esiste nella pubblica amministrazione per cui diceva Salvatore non bastano cinque anni il privato può assicurare assolutamente questa come dire continuità continuità visto forse anche una maggiore consapevolezza rispetto assolutamente anche perché il privato è quello che poi opera nel territorio è quello che investe oggi a sciacca alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo Lazzarini si terrà la presentazione del libro di Angela Rizzuto dal titolo Olga Mao e la truvatura si tratta di una iniziativa della libreria Ubic con il patrocinio del comune di sciacca oltre all'autrice interverranno Ornella Gulino titolare della libreria e Salvatore Mannino assessore comunale alla cultura il testo e i disegni sono di Angela Rizzuto si tratta di un libro per bambini questa la trama un'oca amante dell'avventura è un simpatico gatto grigio a bordo di una vecchia lavatrice trasformata in macchina del tempo dal loro amico Albertino si ritrovano catapultati tra i luoghi incantati e le meraviglie che fanno da sfondo alle leggende del paese in cui abitano durante il loro viaggio incontreranno personaggi bizzarri fate e perfino un drago riusciranno i due amici a tornare a casa? e adesso la libreria Mondadori presenta la rubrica odierna il libro del giorno ci sono stati periodi in cui Anna ci ha creduto alla parità quella che va oltre le apparenze che premia indipendentemente dal genere quella a cui non interessa se sei truccata e come c'hai le gambe e mette sullo stesso piano maschi e femmine poi però come molte bambine e ragazze puntualmente precipitava in quel bisogno sempre lo stesso essere vista sentirsi preziosa e di fronte agli sguardi alle mani e alle parole degli uomini non riusciva a fare altro che cedere spazio voce e pezzi di sé poi con i suoi studenti si trova a discutere da una parte loro ventenni che scoprono la sessualità dall'altra lei che ripensa al passato a tutte le volte che ha ceduto quante sfumature quante sfumature e sull'ambiguità e sull'ambiguità del rapporto che abbiamo con gli altri e con il nostro corpo sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa di Michela Marzano Edito Rizzoli Calcio impegno casalingo per l'Unitas Sciacca che domani pomeriggio allo stadio Gurrera ospita il temibile Castellammare una partita difficile per i neroverdi perché i trapanesi stanno disputando un bel torneo e da tempo occupano la quarta piazza della classifica ne parliamo nel servizio ventesima giornata del campionato di eccellenza Girone A l'Unitas Sciacca torna in campo domenica pomeriggio al Gurrera contro il Castellammare il calcio d'inizio è previsto alle ore 15 i neroverdi dopo due belle vittorie consecutive in trasferta sui campi di Misilmeri e Atletico Palermo proveranno a tornare alla vittoria anche tra le mura amiche l'ultimo successo casalingo per lo Sciacca risale infatti allo scorso 2 dicembre in quel caso i neroverdi superarono l'Accademia Trapani per 3 a 0 non sarà una partita facile posto che il Castellammare è sicuramente una buona squadra è quarta in classifica rispetto all'Unitas a 5 punti in più e viene da 4 risultati utili consecutivi la squadra del tecnico Angelo Galfano nelle ultime uscite ha dimostrato sicuramente di essere più quadrata concede di meno e produce più gioco il tridente Balde Sekan Irashi è uno dei reparti offensivi più interessanti del torneo per i neroverdi vincere potrebbe significare accorciare le distanze rispetto alle posizioni di testa in particolar modo proprio nei confronti del Castellammare domani mancherà per infortunio il difensore Cassaro intanto in testa dopo lo scontro diretto della settimana scorsa prosegue la battaglia a distanza tra Nissa e Profovara che si giocano il salto di categorie in serie D e che ad oggi sono divise soltanto da tre lunghezze i nisseni sono attesi dall'insidiosa trasferta sul campo del Geraci mentre gli agrigentini attendono la visita del tranquillo atletico Palermo mancano ancora 11 turni alla fine del torneo e la sfida tra Nissa e Profovara potrebbe proseguire fino al termine della stagione due grandi squadre che risultati ed esborsi alla mano meriterebbero entrambe il salto di categoria Sport ottima prestazione a Budapest per lo schermidore saccense Giuseppe Marciante che per la prima volta ha calcato le pedane internazionali di Sciabola nel servizio spazio anche ai kart con la brillante prova di Giovanni Catanzaro alla prima tappa del campionato regionale di specialità vediamo esordio europeo per il 17enne sciabolatore saccense Giuseppe Marciante tesserato per il circolo schermistico mazzarese qualche giorno fa infatti sulle pedane del National Sport Hall di Budapest in Ungheria 20 atleti italiani hanno partecipato ad una gara del circuito europeo Under 23 Marciante ha fatto parte della spedizione italiana perché tra i selezionati del CT e autorizzati dalla federazione italiana scherma grande soddisfazione perché del gruppo hanno fatto parte oltre ai soliti forti atleti dei gruppi sportivi delle armi anche l'attuale campione europeo giovani in carica e l'attuale campione italiano giovani in carica gara di altissimo livello riservata ai migliori assoluti europei tra cui alcuni che si giocano ai posti per i prossimi mondiali a cui Marciante si è presentato senza guida tecnica perché è impegnato negli stessi giorni in altre gare nonostante l'emozione e l'alto livello tecnico l'atleta saccense si è ben distinto riuscendo a superare i gironi con tre vittorie e tre sconfitte cosa complicata visto che entrava con coefficiente molto basso perché alla prima prova europea e nel girone trovava tra gli altri un ungherese e un romeno titolari delle loro rispettive nazionali finisce la sua gara contro uno spagnolo in un incontro molto tirato perdendo 15 a 12 chiudendo così la gara a metà classifica prosegue il suo graduale percorso di crescita a cui si aggiunge questa partecipazione europea che lo vede premiato degli enormi sacrifici che fa per amore di questa sua disciplina sportiva e passiamo ai motori ottima prova con i kart per il saccense Giovanni Catanzaro che ha partecipato a Melilli nel Siracusano alla prima prova del campionato regionale Coppa Italia Kart Catanzaro si è piazzato primo nella categoria regionale 125 KZN Ruchi dopo solo due mesi di kart in qualifica ha portato a casa una bella prestazione chiudendo quarto ad un decimo dal primo dunque sarebbe potuto partire anche in pol in gara 1 Catanzaro è stato un po' sfortunato con una partenza difficile a causa di un incidente ed è arrivato penultimo mentre in gara 2 ha rimontato fino alla sesta posizione piazzamento conquistato dopo tanti bei sorpassi e con una bella prestazione Catanzaro che si prepara adesso per i prossimi appuntamenti agonistici Ancora sport il maestro di tennis Antonino Armenio di Ribera è stato nominato responsabile nazionale per l'area sud degli eventi dell'ente Libertas di tennis e di padel nel servizio parleremo anche di pallacanestro con gli ultimi risultati della Icaro Basket Shaka nei campionati federali Under 14 e Under 15 vediamo il servizio Bel riconoscimento per l'atleta e maestro di tennis Nino Armenio in forza al sodalizio Passione Tennis Shaka Armenio è stato infatti nominato componente nazionale della commissione Libertas per il settore tennis e padel e responsabile nazionale dell'area sud Ringrazio per questa nomina e per la feducia afferma Armenio il vice presidente nazionale amabile Bonafede questo incarico mi riempie d'orgoglio ma soprattutto di un grande senso di impegno e di responsabilità la nomina di durata annuale è avvenuta qualche giorno fa con Nino Armenio che avrà l'obiettivo di contribuire alla diffusione e promozione delle attività sportive culturali e sociali della Libertas e passiamo alla pallacanestro Icaro Basket Officine Ranelli di Sciacca ancora in campo nel campionato Under 14 i seccensi guidati dal coach Giovanni Monastero sono stati sconfitti in trasferta dal Trapani Shark per 55 a 43 al termine di una partita molto combattuta come confermano i 4 parziali 14 a 9 14 a 14 13 a 8 e 14 a 12 lo score ha visto Andrea Infantino realizzare 21 punti Baldostagno 10 Ivan Giglio 2 Federico Bongiovi 6 e Giuseppe Augello 4 punti nel campionato Under 15 invece vittoria in trasferta per la Icaro Sciacca che ha superato nettamente i parietà del Salemi 33 a 79 il risultato finale frutto di parziali che si sono conclusi tutti in favore degli ospiti 8 a 25 4 a 8 9 a 20 e 12 a 26 questi i migliori marcatori di giornata Andrea Infantino 21 punti Davide Curreri 10 Baldostagno 3 Ivan Giglio 7 Mattia Schittone 17 Marco Napoli 1 Antonio Segreto 2 Edoardo Piazza 2 Iad Ben Reied 2 Giuseppe Augello 8 Davide Sabella 2 e Gioele Sabella 4 punti nel torneo Under 15 il prossimo turno è previsto venerdì 9 febbraio con i saccensi che giocheranno in casa alla Sicilia Sport Per il momento è tutto ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi arrivederci Grazie a tutti